Inizia con il Botto, Teatro nel Borgo, a Porelli di Bagnaracalabra, Piazza San Nicola. La splendida location scelta per ospitare l'importante rassegna teatrale organizzata dall'Associazione Argos accoglie con un numeroso pubblico, partecipe ed entusiasta, la prima delle cinque rappresentazioni previste in programma. Ad aprire la rassegna, l'Associazione Culturale Oltre il Sipario di Melito Portosalvo con il Medico dei Pazzi per la regia di Elia Enrigo. Giuseppe Pietropaolo, regista e presidente di Argos, che quest'anno festeggia i vent'anni dalla fondazione dell'Associazione si è detto soddisfatto del lavoro fin qui svolto ed ha confermato il piccolo borgo porellese quale sede dell'ormai ventennale rassegna che da quest'anno ha preso il nome di teatro nel borgo. Quest'anno anche perché ricorre i venti anni dell'Associazione Argos nata nel 99 quindi abbiamo, ci ho ottenuto tantissimo farla qua a Porelli per questo perché l'Associazione Argos è nata a Porelli, per il rione di Porelli.